Presso il Centro Interculturale Nelson Mandela di Taranto, corso di aggiornamento in elementi di medicina tropicale e salute globale. Relatore il dottor Andrea Cassare, dottore appunto in farmacia. Dunque una materia, quella della medicina tropicale, tutta da scoprire in piena evoluzione. Una o due giorni per fare chiarezza, per eliminare magari tabù, idee così di prevenzione verso certe problematiche. Facciamo un bilancio di queste due giorni. Sì, è stato un corso che è stato organizzato grazie all'interessamento dell'associazione Salam ONG di Taranto, con la partecipazione dell'associazione di promozione culturale Paolo Zahid, costruttore di pace, e il patrocino dell'ordine dei medici di Taranto e provincia. La medicina tropicale è una disciplina che studia appunto quelle che sono le patologie, le problematiche di tipo sanitario, che si presentano in modo univoco o comunque maggiore nei paesi tropicali, ma che per effetto della globalizzazione stiamo comunque cominciando a vedere anche un po' dalle nostre parti. Motivo per cui il corso si intitola Medicina tropicale e salute globale. Abbiamo visto quindi quali sono le patologie che possono essere effettivamente portate dai migranti, ma abbiamo anche un po' demistificato quelli che sono... Scongiurare magari certe prevenzioni, dicevo, che ci sono idee di un po' magari non al passo dei tempi. Assolutamente sì, abbiamo fatto un po' chiarezza su quelli che sono i pregiudizi e le disinformazioni circa quello che può essere lo stato di salute dei migranti sul territorio italiano, ma abbiamo cercato comunque anche di esaminare quella che è la problematica ad ampio spetto per cercare di capire da ambo le parti quelli che sono i punti di forza e di debolezza e cercare anche di dare delle risposte adeguate per la tutelare la salute pubblica, dei cittadini italiani e della popolazione migrante. Ci si è soffermati anche su tutta la trattazione delle varie vaccinazioni? Sì, abbiamo affrontato soprattutto il tema delle vaccinazioni da affrontare prima dei viaggi, ad esempio, in Africa, ma anche quelle che sono le vaccinazioni consigliate comunque comunemente per chi deve abitare e vivere sempre nel territorio italiano, ecco. Ma diciamo che non esiste un rischio infettivologico altissimo dovuto all'immigrazione. Grazie a tutti.